Musica Ambasciata d'Indonesia con Bianca Cimmiotti Lama la curatrice del progetto Batik per la coeffia e per l'ambasciata allora, questa tua creatura? è una creatura comune, nata da una volontà e da un interesse comune quello di promuovere questa grande tradizione Batik che è quella di dare ai nostri studenti un'occasione di ricerca e di studio a maggio realizzeremo una collezione di 45 capi che sfileremo in occasione del derby all'ippodromo Capanelle e realizzeremo un'altra nostra produzione, una nuova collezione fatta tutta a mano e realizzata dai ragazzi del terzo anno e quindi all the best perché avrai senz'altro molto successo tu con tutti i ragazzi diciamo che il successo è dei ragazzi e noi ci prendiamo la soddisfazione se il lavoro è da bene di averli creati, di averli curati esatto, grazie alla vostra testata che ci segue sempre molto siamo all'ambasciata d'Indonesia e con noi l'ambasciatore Sir August Parenkwan is excellent Sir August Parenkwan how do you combine fashion with Indonesia? fashion is very creative in Indonesia we have also fashion designer according to our traditional textile and also in modern textile so it's really people getting know how to be fashionable so fashion is really everywhere in Indonesia and the country thank you for the invitation thank you e qui un artista all'opera che sta disegnando i batik che meraviglia what a marvelous thing wonderful compliments e qui un'infilata di tessuti come vedete batik tutti i batik sono infatti gli stilisti della coesia hanno disegnato dei modelli con questi tessuti ecco i modelli le maquette con i modelli la coesia si ci aspetti nell'anno c'èencia DOVE credo www.zafarssvirtinanilina.it mg c'è quello che ci ha dei modelli Dove seguro poem informed contro giurati in azione comunque sono tre Sergio Sergio nelle vesti di giurato Sergio Valente delle vesti di giurato qual è ti è piaciuto di più di queste? sto osservando i tessuti stessi mi piacciono adesso bisogna vedere bene i modelli e poi deciderò comunque già ho individuato qualche cosa di bello molto bello ancora modelli e qui abbiamo un'altra giurata Stefania Giacomini di Rai3 ciao a tutti voi allora l'imbarazzo della scelta perché vedo ci sono delle cose bellissime sì veramente ancora devo decidere perché sono talmente belli poi talmente colorati talmente anche preziosi come Bozzetti che insomma c'è l'imbarazzo della scelta ma qui siccome sono un'attenta non mi va di dare un voto a casarci ma siccome tu sei veramente competente da 1 a 10 quanto daresti a questi giovani stilisti della Coefia? ma guarda io comunque darei 8 intanto per l'impegno poi è chiaro dovranno affinare le loro tecniche ma questo viene con il tempo tutti noi anche come giornalisti insomma all'inizio come eravamo adesso siamo migliori ovviamente adesso siamo scafati ovviamente sì it's keeping track of the pack watching them watching back that makes the world go round watch that sound Sous-titrage Société Radio-Canada